Il 2024 si apre con una grande sfida. Al Francioni, oggi pomeriggio 16.15, andrà in scena il primo otto del girone di ritorno del campione di Serie C che vedrà di fronte in Latina di mister Daniele Di Donato e l'Avelino guidato da Michele Pazienza. Un match che vale tanto in ottica playoff, con i neri azzurri decisi ad accorciare sulla quarta della gradatoria, al momento lontana 7 punti. Il Latina non arriva proprio al meglio alla prima gara dell'anno, viste le assenze degli acciaccati. Per lo mancherà Di Renzo, causa influenza, centrocampo, out sia Biaggi che Cittadino. Perseo anche non è al top. Mastroianni ha sostenuto solamente la rifinitura, ma figura regolarmente nella lista dei convocati. Di Donato sarà costretto a ridisegnare la mediana. Una delle opzioni potrebbe essere un centrocampo a 4 con Capitano di Livio e Paganini a formare una riga davanti alla difesa con Ercolano e Crecco ad agire sulle corsie laterali. A Riccardi il compito di garantire quella imprevedibilità necessaria per provare a mettere in crisi una difesa che fuori casa si è dimostrata solidissima con appena 4 reti al passivo. Fella e Fabrizzi potrebbero anche giocare insieme, ma attenzione all'ipotesi del sole, dal primo minuto o come esterno di centrocampo, nel caso di uno schieramento a 5 o come trequartista dietro la punta di riferimento. Arrivare con 4-5 punti in più a questa gara sarebbe stato chiaramente preferibile, un premio che il Latina avrebbe meritato, ma Daniele di Donato non dispera.